Musica Prosegue per tutta la giornata di sabato 24 ore per il Signore, tempo di preghiera per celebrare il sacramento della riconciliazione. In cattedrale diversi sacerdoti presenti fino alle 18. Un incontro ricco di umanità fra il Vescovo Alberto Tanasini ed il personale dell'ospedale di Lavagna. Al centro la cura della persona e non solo dell'ammalato. Celebrata in diocesi la prima giornata del mondo del lavoro. A Chiavari un convegno sul tema di lavoro, profitto, fragilità. Il Vescovo ha celebrato la messa in cattedrale per tutti i lavoratori. San Giuseppe, uomo straordinario nella quotidianità. La festa del papà di Gesù, celebrata con solennità nella parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri, dal Vescovo un pensiero affettuoso a tutti i papà. Rinnovamento nello Spirito Santo festeggia 40 anni di presenza in diocesi. Domenica nel seminario di Chiavari un momento di festa, riflessione e preghiera con il presidente nazionale Salvatore Martinez. Anche la diocesi di Chiavari attende con gioia Papa Francesco che visiterà Genova il 27 maggio. Mille posti garantiti per la celebrazione della messa alla Fiera del Mare. Occorre iscriversi all'ufficio pellegrinaggi. Benvenuti cari amici ad un nuovo appuntamento con noi chiesa. La nostra trasmissione è dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo con l'appuntamento che stiamo vivendo proprio in queste ore mentre vi stiamo parlando. 24 ore per il Signore, l'iniziativa di preghiera, di riflessione dinanzi a Gesù e Eucaristia per accostarsi al sacramento della riconciliazione. Un'iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione che si svolge in tutte le diocesi del mondo e per quanto riguarda il nostro territorio in tutte le località della diocesi. Vediamo su questo il servizio che abbiamo preparato con le parole di Papa Francesco e l'intervista al Prevosto della Cattedrale, Don Gian Lorenzo Borzini. Papa Francesco ha invitato tutte le comunità cattoliche nel mondo a vivere con fede l'appuntamento delle 24 ore per il Signore. Durante l'udienza generale di mercoledì ha sostenuto questa iniziativa del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. L'evento si tiene nelle diocesi ad ogni latitudine per riscoprire il sacramento della riconciliazione, ha sottolineato Francesco. Ogni diocesi terrà almeno una chiesa aperta per quasi 24 ore di seguito per consentire a quanti lo desiderano di accostarsi al sacramento della riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Prologo dell'iniziativa venerdì scorso 17 marzo nella Basilica di San Pietro con la celebrazione penitenziale presieduta dal Papa che si è inginocchiato per confessarsi e a sua volta ha confessato sette penitenti per quasi un'ora in totale. Invito tutte le comunità a vivere con fede l'appuntamento del 23-24 marzo per riscoprire il sacramento della riconciliazione. 24 ore per il Signore. Auspico che anche quest'anno, a tale momento privilegiato di grazia del Cammino Guarissimale, sia vissuto in tante chiese del mondo per sperimentare l'incontro gioioso con la misericordia del Padre che tutti accoglie e perdona. Le 24 ore per il Signore vengono celebrate nei cinque vicariati della Diocesi di Chiavari a livello cittadino. La cattedrale di Nostra Signora dell'Orto resta aperta nella serata di venerdì fino alla mezzanotte e poi nuovamente sabato mattina dalle sette fino alle diciotto. Ci saranno diversi sacerdoti disponibili per le confessioni. Il significato di questo momento è poter sperimentare il perdono del Signore come ragione della nostra gioia. e soprattutto io vedo che anche per me è come dire all'interno del Cammino della Quaresima fermati un momento e ricomincia. Non dà per scontato il cammino che stai facendo. ci sono io qua, ti guardo, fatti vedere. Perciò è come un rinizio, è come un nuovo inizio. Senza un nuovo inizio tutto diventa abitudine. Quindi, innanzitutto, questo, l'esperienza del perdono. Cioè che noi abbiamo bisogno di essere perdonati. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci perdoni, che sia in grado di farlo. Non semplicemente qualcuno che dimentichi i nostri peccati. o non semplicemente qualcuno che è indifferente al male che commettiamo. No, qualcuno che ci perdoni. Cioè, sapendo chi siamo, no, possa abbracciarci, no, e farci ricominciare. Il sacramento della penitenza, che si eserciterà in questi due giorni, no, è il sacramento che non soltanto purifica e lava dai peccati, ma è un sacramento di grazia. Tant'è vero che all'inizio della celebrazione, a seguire, durante il, come si chiama, l'inizio, l'introduzione del vescovo, verrà esposta l'eocarestia. Perciò l'adorazione eucaristica accompagnerà questi due giorni. Come a dire grazia, no, e perdono, no. E questo, perciò, è qualcosa che ci fa, come dire, ci riempie di gioia perché c'è uno che non si stanca di noi. Le 24 ore per il Signore saranno trasmesse in diretta su Telepace 2, al canale 85, per l'intera giornata di sabato. Vi ricordo che 24 ore per il Signore viene trasmessa in diretta su Telepace 4, al canale 218. Ora andiamo con le nostre immagini all'ospedale di Lavagna, dove c'è stata la visita del vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini. Si tratta di un appuntamento che in realtà è tradizionale nel tempo forte dell'anno liturgico, nel tempo della Quaresima, ma che quest'anno ha avuto una connotazione particolare. Non c'è stata la celebrazione dell'Eucarestia, ma un tempo disteso ed informale di incontro e di dialogo con i medici, con gli infermieri, con i volontari, gli operatori sociosanitari e gli ammalati ricoverati all'ospedale di Lavagna. Su tutto questo sentiamo l'intervista a Don Mario Cagna. Ha avuto una formula diversa l'incontro nel tempo di preparazione alla Pasqua che Monsignor Alberto Tanasini ogni anno ha con il personale e gli ammalati dell'ospedale di Lavagna. Quest'anno non c'è stata la celebrazione dell'Eucarestia, ma un momento più informale di incontro. È stato apprezzato questo tipo di appuntamento? Sì, è stato apprezzato. Proprio ieri mi diceva un medico passando nei corridoi, mentre stava passando alla sala medica a andare a visitare i malati, e gli dice Don Mario è stato bellissimo e sono contenti anche i pazienti. Quindi sì, è stato apprezzato questo incontro mettendo al centro le persone. Malati, operatori, volontari. È stato molto interessante. Per gli operatori, medici, infermieri e operatori sociosanitari, che valore ha avuto questo incontro? Il Vescovo ha mandato molto agli operatori un messaggio che poi, secondo me, lui dice sempre, ma è utile ripetere, del valore della presenza dei operatori che si occupano della salute, delle persone, che lo fanno con dedizione, con competenza e con umanità. E dicendo non in modo generico, ma dicendo proprio voi, cioè di voi io so, lui diceva per esperienza personale, familiare, e per voce dei diocesani, che c'è un'attenzione alla persona. E molto spesso quello che esce fuori dalla sanità sono i problemi che ci sono, le difficoltà che ci sono, ma troppo raramente ci sono, come dire, il portare a evidenza quanto c'è di valore, di bellezza, di attenzione alla persona. E questo mi è sembrato il primo messaggio importante e, devo dire, giusto, perché non si è sentito il Vescovo che lo faceva in modo formale. Il Vescovo ha visitato due reparti in prima linea, la medicina che accoglie le persone in diversi stati, appunto, di malattia e il pronto soccorso che è davvero la prima linea della sanità. Che tipo di reazione c'è stata, appunto, alla presenza del Vescovo? C'è stato un po' di impegno di qualche d'uno che ha riservato un po' di tempo fuori servizio, rientrando, qualche d'uno senza farlo pesare assolutamente, quindi è stato accompagnato dagli operatori e da me, insomma. Però poi ha potuto incontrare quasi tutti i pazienti, ora qualcuno era addormentato, non l'abbiamo stimolato troppo, ecco, però... E c'è stato tante persone che hanno riconosciuto il Vescovo, che hanno ricordato le sue visite pastorali nelle parrocchie e quindi con molti è come se fosse continuato un discorso che c'è sempre, ecco, del pastore che è sempre, ecco, in mezzo alla gente e con qualcuno veramente c'è questa sensazione di un discorso che continua in vari momenti. C'è stata anche una notizia, diciamo così, che ha dato il Vescovo, di una disponibilità da parte del dormitorio che sorgerà, che sta per sorgere a San Pier di Canne, ad accogliere persone senza fissa dimora, dimesse dall'ospedale. Questo è un aspetto dell'assistenza che mancava? Sì, è stato un momento che anche ho sentito più valenze. Intanto una valenza di tipo di carità, etico, di attenzione ai più poveri. Quindi la disponibilità di uno spazio in cui se ci fosse qualche paziente con difficoltà sociali o senza fissa dimora, appunto, può essere anche accudito in un posto ricovero. Non è stato però un annuncio da nessuna delle due parti freddo, nel senso che da parte dei medici, che in realtà una volta che hanno fatto la lettera di missione hanno finito il loro lavoro, cioè di per sé. Cioè loro possono dare la lettera di missione e dire se la cavi. Invece hanno fatto veramente un sorriso e tanti hanno detto finalmente, ma che bello. E così gli infermieri. Cioè c'è stato concretamente il fare esperienza, è una cosa che so, poi lavorando con loro lo so, però è proprio emerso che al centro c'è, non il fatto che dobbiamo eseguire il nostro compito, ma vogliamo curare le persone. E curare le persone vuol dire che anche quando esce dall'ospedale possa stare nel miglior modo possibile, nella concretezza della realtà. Ecco, in passato con la Caritas, con il villaggio, abbiamo cercato di inventare le soluzioni. Ecco, questa però era sempre fonte di un po' di ansia. Mi è piaciuto molto il, appunto, il sorriso e il senso di grigliocchi che si sono illuminati. E in fondo, cioè poi per il lavoro di per sé, questo non ha neanche una grande ricaduta. Invece ha una ricaduta nella relazione con le persone che si curano. E questo è stato molto interessante. Così ho sentito anche, molto importante, la presenza del direttore generale, del direttore generale che ha cercato veramente di essere lì. Quindi, come in tutte le cose, la comunicazione è fondamentale, ma non è sempre semplice. Quindi, alcune persone, io ho cercato di avvisare con messaggi WhatsApp, mail, manifestini ovviamente, manifestini, ma ne legge quasi nessuno. E quindi, forse anche tutti erano a conoscenza della presenza del Vescovo, mercoledì pomeriggio. E questo intanto c'era tanta gente. Questo vuol dire che in realtà era una cosa che ha toccato gli operatori. Non tutti erano presenti e quindi volevo anche rimandare questa cosa che qualcuno se non l'ha saputo. Io ho cercato di avvisare meglio che sono stato capace. La direttrice generale è stata però rappresentanza di tutta la ASLE. Ecco, in qualche modo un segno anche che, per un apprezzamento della figura religiosa e anche di questa collaborazione tra diverse realtà, ecco, rimane nella realtà laica, l'ospedale, però certamente un certo tipo di presenza, fonte di aiuto per tutti. E questo è stato prezioso, ecco. Credo anche prezioso il fatto che il Vescovo richiamava gli operatori sanitari alla possibilità di un incontro in futuro, magari su temi etici. Mi sembra che lo stile con cui, grazie anche a questa visita, come a quelle che farà anche a Sestri e a Rapallo, che aveva rivediamo un attimo adesso perché ci sono un po' di cambiamenti, pone anche una discussione etica in un contesto di relazione e mettere in centro la persona, chiunque sia. E mi pare che questo dice veramente un'etica spesa con le persone. Possiamo non essere creduti per le parole che diciamo, ma certamente se le parole diventano segno, allora diventiamo credenti, credibili. E questo è una cosa che si è respirata reciprocamente. Dalla pastorale della salute passiamo alla pastorale del lavoro, perché in occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore, la nostra diocesi ha ospitato la prima giornata diocesana del lavoro, un appuntamento organizzato dall'ufficio pastorale del lavoro che si è svolto in due diversi momenti. Il primo è stato un convegno aperto a tutti che si è svolto alla Società Economica di Chiavari e che ha avuto come tema lavoro, profitto, fragilità. Sono intervenuti i responsabili di Caritas diocesana, due imprenditori ed un professore universitario, Lorenzo Caselli, per una panoramica a 360 gradi sulle emergenze, le necessità e perché no, anche le speranze e le prospettive del mondo del lavoro. Poi c'è stata anche la liturgia eucaristica che è stata presieduta dal vescovo diocesano nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Su tutto questo i nostri servizi. Un momento per incontrarsi, conoscersi, imparare, confrontarsi su temi che trasversalmente stanno a cuore a famiglie, imprese, rappresentanti dei lavoratori ed istituzioni, lavoro, profitto, fragilità. È stato il contenuto del convegno organizzato a Chiavari dall'Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi in occasione della festa del lavoro in prossimità di San Giuseppe Lavoratore. Nel saluto iniziale il vescovo Alberto Tanasini ha voluto riprendere le parole molto forti che il Papa ha pronunciato al termine dell'udienza generale di mercoledì scorso a proposito di una precisa vertenza. Chi per manovre economiche chiude fabbriche, questa persona fa un peccato gravissimo. La Diocesi, ha sottolineato Monsignor Tanasini, è impegnata nei confronti dei giovani attraverso il progetto Policoro, proponendo occasioni di alternanza scuola-lavoro, con il sostegno a famiglie in difficoltà e nella preparazione della settimana sociale dei cattolici italiani, un lavoro che l'Ufficio Pastorale del Lavoro porta avanti con Caritas e con il servizio di pastorale giovanile l'Ufficio Scuola. Quindi le relazioni del professore Lorenzo Caselli, della direttrice della Caritas Laura Labate e degli imprenditori Antonio Gozzi e Mario Preve, che ha portato la sua esperienza di azienda a conduzione familiare, richiamando l'importanza della famiglia quale soggetto portatore di bene per la società. Enormemente aiuta e difatti dobbiamo reagire a questo attacco che si fa alle famiglie in generale, perché non solo è un attacco alle famiglie ma anche alle aziende familiari, quindi a tutto il paese. Si fa del danno quando si attacca alle famiglie. Cosa porta a casa dopo questa mattinata di convegno, di lavori? Beh, ho imparato, ascoltando si impara sempre e quindi credo che mi sento meglio di prima. Lavoro oggi fa rima con crisi, ma durante il confronto, animato da moltissimi interventi, c'è stato spazio per la speranza, con lo sguardo puntato sulle potenzialità ancora inespresse del territorio e sulle criticità più generali da sciogliere. Il Tiguglio può dare molto, non solo perché è bello, perché è gradevole starci, ma credo che se le autorità locali aiutano con questi piccoli esempi semplici che non costano allo Stato, credo che si può invogliare molto a venire a mettere qua delle attività e quindi un bene per la Liguria. L'esempio anche di altre amministrazioni al di fuori dell'Italia, lei ha citato un esempio preciso a Manchester, che cosa avete trovato, che ambiente avete trovato? Abbiamo trovato un ambiente di gente che non faceva che dirci grazie perché venite a investire, che è direi un po' il contrario di quello che succede qua, quando un'azienda ci mette sette anni a avere i permessi e vai in un altro paese dove ti ringraziano perché vuoi investire è una cosa, la globalizzazione c'è e le pubbliche amministrazioni sono in concorrenza come lo sono le aziende e quindi la pubblica amministrazione si deve rendere conto che è in concorrenza con le pubbliche amministrazioni di altri paesi. I giovani, cosa dire loro, che speranza dare nei loro confronti? I giovani devono avere grinta, devono sapere che non c'è niente di facile, devono prepararsi, devono studiare tanto e poi io raccomando sempre ai giovani di imparare le lingue straniere, è una cosa che dà una possibilità di lavoro enorme, enorme. Lavoro vuol dire rispetto dell'uomo e dignità che deve essere garantita. Nella messa di oggi in cattedrale il Vescovo ha spiegato che l'uomo non può essere considerato soltanto strumento di un sistema. L'uomo ha bisogno del lavoro, non solo per guadagnare ma per esprimersi. Descrivendo la figura di Giuseppe il Falegname, identificato per la sua attività, Monsignor Tanasini ha ribadito che il lavoro va considerato in una dimensione più alta, che non si riduca solo all'aspetto economico della vita. Di qui l'invito ad un impegno maggiore e a creare con ogni mezzo il lavoro anche nel nostro territorio. E' un dovere della nostra comunità umana e della comunità di questo nostro territorio, un dovere primario che deve venire prima di ogni calcolo. è qualificante offrire possibilità di formarsi in modo adeguato per il lavoro oggi e qui. Pensiamo insieme a come offrire nuove opportunità alle fasce deboli. pensiamo a come dare speranze concrete ai giovani, ai nostri giovani, se non vogliamo che questa nostra terra muoia. Usciamo dalla logica di un interesse miope. Entriamo nell'ottica del valore sociale e delle risorse. Il Vescovo ha poi invitato ad aprire le abitazioni all'accoglienza delle presenze giovani. Abbiamo delle possibilità, mettiamole in campo, ha quindi esortato. Chiediamo che lo facciano anche le istituzioni per la loro parte. Non si chiede assistenzialismo, ma promozione coraggiosa, possibile, soprattutto se si entri in una prospettiva di rete. La festa di San Giuseppe viene celebrata con particolare solennità nella parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri, dedicata al Santo. In questa occasione il Vescovo Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucarestia nella chiesa parrocchiale. Di fronte alla difficoltà si fida di Dio. Non fa come gli ebrei nel deserto. Si fida di Dio. E in silenzio fa quello che Dio gli chiede. Uno straordinario uomo comune che nel suo fidarsi di Dio compie la sua volontà. E questa è la grandezza di Giuseppe, l'uomo a cui Dio chiese di crescere suo figlio, capace di insegnargli come vivere e di trasmettergli anche l'amore per il suo lavoro. Nella parrocchia di Ribasso a Chiavari, il cui titolare è proprio San Giuseppe, il Vescovo ha voluto delineare così la figura del Santo che si è nutrito della volontà di Dio e lo ha fatto guardando a tutti i papà di cui ieri ricorreva la festa, invitandoli a fare altrettanto con i propri figli. Potrete dare questo grande dono ai vostri figli? Vedere in voi gli uomini del quotidiano, della vita quotidiana fatta, vissuta con serietà, con bontà, con dedizione, che insegnano a fare la volontà del padre, che insegnano a scoprire con la propria paternità che cosa significa che Dio è padre. Il Vescovo, che durante la celebrazione eucaristica ha consegnato anche il credo ai ragazzi del Catechismo, nella sua riflessione ha focalizzato l'attenzione anche sull'episodio della protesta del popolo ebraico nel deserto, che soffre la mancanza di acqua, e quello della Samaritana a cui Gesù chiede da bere. In entrambe le situazioni è un invito ad andare oltre le mere necessità, quello che Dio fa emergere alla ricerca di quell'acqua viva che spegne la sete di verità insita nel cuore dell'uomo. I nostri desideri devono essere più alti, Gesù allarga questo dono e dice guarda che dentro il cuore c'è una sete di verità, di bontà, di amore, che io voglio saziare. Questa è l'acqua che Gesù vuole darci. Il Movimento Ecclesiale di Rinnovamento nello Spirito Santo compie 40 anni di presenza nella nostra Diocesi. Questo compleanno così speciale sarà salutato con una giornata di condivisione e fraternità per tutti gli aderenti al Movimento, ma anche perché no, ai simpatizzanti o a coloro che volessero semplicemente saperne di più. L'appuntamento è per domenica lungo l'intero arco della giornata nei locali del seminario di Chiavari. Già fino dalle 9 del mattino ci sarà la possibilità di incontrarsi per momenti di preghiera, di riflessione, di testimonianza, per condividere il pranzo insieme e poi nel pomeriggio, forse il momento più atteso, con l'arrivo del Presidente Nazionale di Rinnovamento nello Spirito Santo, Salvatore Martinez, che giungerà a Chiavari proprio per portare il proprio saluto agli aderenti. Ora vi mostriamo uno stralcio della nostra trasmissione Buon Pomeriggio con le testimonianze del fondatore della comunità chiavarese, Raffaele Loiacono, e del suo coordinatore attuale, Luca Gibelli. Vediamo. Direi che è stata una trasmissione contagiosa di un'esperienza. una cosa molto semplice, un pomeriggio d'estate piovoso, con i cinque figli in casa, eravamo un po' nervosi, andiamo alla messa del pomeriggio, incontriamo un'altra famiglia e il mugugno sale, dice giornata estiva, piove, i bambini, voi cosa avete fatto? Erano villeggianti, dice noi abbiamo letto la parola di Dio, abbiamo pregato, colpo di fulmine, è stato come una stilettata, ci siamo chiesti ma che fanno questi? la domenica pomeriggio in famiglia leggono la parola di Dio, pregano, lodano Dio, ci deve essere qualcosa, o sono matti, o sono fuori di testa, o c'è qualcosa, allora ci siamo un po' nel modo intrigante messi al loro fianco, gli abbiamo detto, ma dice non preoccuparti, domani partiamo per la città dove residiamo, però ti diamo un libro da leggere e ci dedono un libro che era l'ora dello spirito, nel leggere quel libro ci siamo resi conto che veramente lo spirito non solo a Pentecoste duemila anni fa agì, ma agisce tuttora, cioè nella chiesa la Pentecoste è un qualcosa di permanente, vabbè, da quel momento la sete, vogliamo toccare con mano, vogliamo conoscere, allora io e Mirella coi figli andiamo a Milano, entro in questa assemblea che prega, lodo a Dio, ascolta la parola e mi succede un fatto mai successo, io raramente piangevo, solo quando mia madre mi dava delle botte, entro in quella, comincio a piangere alla mattina alle nove e mezza e ho pianto tutto il giorno un pianto liberatorio, un pianto di commozione, di commozione, non lo so, liberatorio, Mirella pure, emotivo? Non lo so, non lo so, sta di fatto che io sono uscito di là dicendomi adesso io torno a Chiamari e devo raccontare questa nostra esperienza e lì allora in casa mia ci siamo riuniti con dei fratelli che frequentavano il gruppo che Don Leglio aveva per la meditazione del Vangelo in parrocchia e abbiamo cominciato a leggere quel libro e poi ci siamo fatti aiutare perché come poi spiegherà meglio Luca si parte con il riscoprire il sacramento del battesimo, rinnovarne... Valle origini praticamente... Sì, cioè è probabilmente un sacramento legato perché non ci crediamo più di tanto ma se uno ci crede, lo rinnova, chiede ai fratelli di pregare, comunque Luca lo spiegherà, ecco da questa... Ti sta domandando delle incombenze... Sì, sì, da questa fontana di acqua viva che è il battesimo, poi viene fuori tutto, la gioia, la pace, la lode... Comunque Raffaele questo è stato anche il tuo primo incontro con il movimento del rinnovamento nello spirito, sai? Sì, sì... Sentiamo anche Luca come ha conosciuto questo movimento? Allora la cosa è poi abbastanza divertente, mi aveva invitato una ragazza carina, io ho fatto un... La prima volta non ci sono andato, poi il sabato dopo ho detto passo, ci vado e effettivamente sono rimasto colpito. Era una cosa del tutto diversa da quello che ero abituato, io appartenevo a una famiglia cattolica, praticante, eccetera... E vedevo questo modo di pregare molto, come dire, aperto, confidentiale con Dio, no? Però ho visto c'era un sacerdote, Don Antiglio musico, dicevo c'è un prete, non può essere una cosa fuori del seminato. Poi sono nel seminario, vuol dire, che so. E effettivamente proprio sono tornato, la terza volta mi sono messo a piangere anch'io e adesso sono 30 anni che frequento. Ma qual è il carisma di rinnovamento nello Spirito Santo? Diciamo che forse potremmo... Il principale forse è proprio la diffusione di questa esperienza, è l'evangelizzazione. Cioè l'annunciare Gesù e il Signore e le opere dello Spirito Santo, la grazia dello Spirito Santo. Quello che ci chiama anche il Papa a fare adesso, perché è una corrente di grazia. Proprio il Papa ce l'ha, il Papa Francesco ce l'ha ripetuto il primo giugno del 2014, dice allo Stadio Olimpico. E questa corrente di grazia ha detto diffondetela. Quindi principalmente direi è questo. Però poi questo agire dello Spirito si esplica attraverso tanti carismi, che sono doni dati gratuitamente alle persone per l'edificazione della Chiesa, che poi diventano anche azioni di opere, azioni di catechesi, azioni di accoglienza, di consolazione, di preghiera per le persone, anche per le persone provate dalla malattia o anche da altre realtà. Allora, dopo questo incontro però poi come si è costituito il primo gruppo di rinnovamento nello Spirito Santo in diocese? Come in tutti i movimenti, se vai a chiedere a tutti i movimenti, bacchettate. Cioè, noi crediamo di annunciare agli amici della parrocchia questo incontro, arrivano a lettera a Monsignor Ferrari in cui si dice, attenzione qui Martín Lutero ci sono dei pericoli, per fortuna Monsignor Ferrari era veramente un pastore preparato teologicamente, ci chiama, ci accoglie e ci prende sotto la sua guida. Le prime cose che ha fatto ha detto, continuate, ricordatevi che avrete alcuni problemi, ne parliamo, anzi, dice, le suore clarisse hanno espresso il desiderio di pregare con dei laici, con i movimenti, vi segnalo le suore clarisse così, e di fatti andammo a pregare dalle suore clarisse. Quindi lui ci fu padre. Quanti eravate? All'inizio eravamo sette. Sette? E perché avete scelto di intitolare a Maria, Santa Maria Stella del Mare, il vostro primo gruppo? Io tutte le mattine dovevo prendere il treno, quando c'era ancora aperto il passaggio a livello, ero sempre in ritardo, e tutte le mattine passavo davanti a Maria Stella del Mare. Allora, quando da Roma mi dicono, dovete darvi un nome, io non sapevo, diceva, vabbè, Maria Stella del Mare, anche lì. Forse incoscientemente, non lo so, ma Maria per noi, Luca lo può testimoniare, ci ha accorti poi nel seminario. Sembrava che ci aspettasse, perché dopo il girovagare, quando hanno chiuso giù in Vientella il convento, perché c'è stato il trasferimento, non sapevamo dove andare. E Monsignor Ferrari... Quindi la vostra sede originaria, diciamo, il vostro punto di incontro originario erano le Clarisse di Vientella. Prima a casa mia, per direi un anno, poi siamo andati con l'aiuto del Monsignor Ferrari dalle Clarisse, dopo 4-5 anni le Clarisse se ne andavano e Monsignor Ferrari ci disse venite in seminario. Oggi, Luca, quanti sono i gruppi di rinnovamento dello Spirito Santo presenti in Diocesi? Dunque, sono quattro. Il primo che in qualche modo ha dato il via a questa corrente di grazia di Ernetti Guglio è stato quello di Chiavari, Santa Maria Stella del Mare, poi è seguita la fondazione di un gruppo a Rapallo che si chiama, è intitolato anch'esso la Madonna Nostra Signora di Montallegro, poi il gruppo di Santa Margherita Ligure, anche quello intitolato la Madonna Maria Originala Pace e ultimamente, da qualche anno, un secondo gruppo a Chiavari serale presso la parrocchia di Baccezza, nei locali lì, dove anche quello intitolato a Maria, a Maria Madre di Misericordia. Insomma, la Madonna mi sembra che sia presente in tutti i quattro i gruppi questa figura materna. Sì, direi che anche appunto lì a Baccezza è anche una parrocchia intitolata a Maria, a Santa Margherita anche. Invece, per il gruppo di Rapallo, sono presso la chiesa dei frati francescani vicino al Polpo. Devo dire che è tipico proprio anche dei gruppi del rinnovamento dei primi tempi essere intitolati a Maria. È rimasta questa cosa. Da noi in diocesi tutti sono intitolati a Maria, ma d'altro non è anche la patrona della diocesi. Certo, la nostra diocesi mariana. Che tipo di attività viene proposta ai gruppi? Come si svolgono gli incontri all'interno dei singoli gruppi? Beh, allora, la nostra peculiarità è quella di fare preghiera comunitaria carismatica. Col cammino che si fa di riscoperta del battesimo si passa attraverso un seminario, chi lo chiede, che volentieri possiamo anche aprire agli esterni. Cioè, questa è una grazia che vorremmo donare alla Chiesa, quindi possiamo anche farlo appartenenti ad altre realtà, dove praticamente si fa una consegna della propria vita a Dio e si riceve una preghiera di effusione cosiddetta. Cioè, un'invocazione dello Spirito Santo personalizzata, potremmo dire. Si invoca lo Spirito Santo sulla persona perché riscopre i doni che ha ricevuto col suo battesimo e li metta a disposizione della Chiesa. Ora, questi doni possono essere doni di accoglienza, di annuncio, doni di commento della parola, di apertura della parola biblica, doni di saper predicare, doni di saper consolare, doni di saper accogliere. Allora, la preghiera si svolge in questo modo, cioè mettendo in comune questi doni. Per cui, non c'è una regola. C'è qualcuno che comincia a pregare, la sua preghiera innesca quella del fratello, il quale a sua volta innesca la preghiera di un altro fratello o sorella, per cui si sviluppa una preghiera ispirata, non tanto spontanea e ispirata, proprio sulla grazia dello Spirito Santo che mette nel cuore le cose alle persone da dire, da proclamare e alla fine di un incontro ci accorgiamo di aver fatto praticamente un percorso spirituale. Questo è molto bello, molto coinvolgente. Ecco, Raffaele, fare il riassunto di 40 anni immagino che non sia facile, però c'è qualche evento, qualche momento di questi 40 anni che ti è rimasto particolarmente nel cuore, che ha segnato anche questo cammino personale e, diciamo così, condiviso con altri fedeli della Dioce. Direi che il gruppo è stato condotto dal Signore a fare varie tappe. Io parlo, direi, con entusiasmo della prima perché è stato il momento in cui il Signore veramente ci ha fatto toccare con mano che era Lui che conduceva le cose, non noi. Allora, la prima cosa che abbiamo scoperto è l'obbedienza. I nostri che ci hanno portati alla preghiera di infusione di cui parlava Luca ci hanno detto non andate in giro a chiedere alla gente di venire, voi rimanete in preghiera, il Signore li porterà a lui. E noi abbiamo obbedito per alcuni anni e il Signore li ha portati a lui. Ma non nel modo che volevamo noi. Noi avevamo un fratello, non posso fare il nome in questa sede perché è una questione delicata, che in pratica commerciava in vino, portava l'acqua in giro per i paesi del Tiguglio. Che cosa succedeva quando lui incontrava i clienti, non si sa, sta di fatto che gli chiedevano, ma... E lui diceva, venite e vedete. Per cui quando Luca dice che sono sorti i gruppi di Rappallo, di Levanto, di Santa Margherita, perché poi siamo arrivati anche a Levanto, è perché sono stati anni in cui, come dice appunto Luca, il Signore ci usava per evangelizzare, quindi eravamo stati obbedienti per un tempo, poi è stato lui a dire, vi procuro io. Questa è la prima cosa che noi ricordiamo. In 40 anni, fai il conto di quanti sabati ci sono, il Signore ci ha concesso, lui per grazia, di non fermarci mai. Tutti i 365 sabati dei 40 anni, noi siamo stati alla preghiera, pioveva, c'era il sole, le ferie, mai. Ci siamo interrotti solo quando c'era il convegno diocesano, il piccolo sinodo ai tempi, insomma, i racconti sono tanti, mi sembra che però la cosa fondamentale sia la preghiera, come ci richiamava all'inizio Luca, questa insomma è la vostra caratteristica che vi connota. Adesso, per questo quarantesimo anniversario, quali celebrazioni? Immaginiamo che sia un rendimento di grazie, innanzitutto il momento che state organizzando per domenica prossima. Sì, domenica prossima abbiamo praticamente deciso, tutti gli anni noi celebriamo una giornata del ringraziamento, per ringraziare il fatto che, del fatto che abbiamo ricevuto l'approvazione del nostro statuto, ormai sono già parecchi anni. In questa giornata diocesana abbiamo deciso quest'anno di festeggiare 40 anni del gruppo di Chiavari, quindi cercheremo per il possibile anche di accogliere persone, se vogliono venire a festeggiare con noi, è una cosa aperta. Ora, noi abbiamo la gioia di poter ospitare tra noi il Presidente nazionale del rinnovamento dello Spirito Santo, in quella data, che è Salvatore Martinez, che molti si riconoscono. Abbiamo visto anche in qualche immagine. Diciamo, si trova nei paraggi per altri impegni connessi appunto al suo ruolo e abbiamo chiesto se faceva un passo a salutare. Saremo quindi onorati della sua presenza, ma abbiamo anche, e soprattutto questo è la cosa che ci ha rallegrato di più, l'avventura di ospitare per un saluto il nostro Vescovo. Avevamo chiesto l'anno scorso addirittura è stato così caro, potremmo dire, come padre da voler celebrare la Messa con noi. Quest'anno invece aveva, in questa domenica del 26, l'impegno della Messa per i ministeri e allora passerà a fare un saluto, ma non si fermerà a celebrare la Messa con noi. Noi però, grati, andremo alla Messa dei ministeri per essere con lui. Al termine dell'appuntamento che rinnovamento nello Spirito Santo vivrà domenica nei locali del seminario Vescovile, gli aderenti si sposteranno nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto per partecipare, come avete sentito dalle nostre interviste, alla Santa Messa che il Vescovo presiderà in occasione della giornata diocesana delle cantorie e dei ministeri, un appuntamento che si svolge ogni anno in questo tempo di quaresima e che vedrà appunto la partecipazione dei nuovi lettori, dei ministri straordinari della comunione che verranno istituiti in questa occasione e dei cantori della nostra diocesi. Alle 17.30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto ci sarà la celebrazione del Vespro a seguire, a partire dalle 18, la Santa Messa presieduta dal Vescovo che potrete seguire in diretta sul Telepace 1 al Canale 15. Ora spostiamo lo sguardo in avanti, andiamo al 27 di maggio quando Papa Francesco visiterà Genova. Un appuntamento molto atteso, sono già tante le persone che si chiedono come poter partecipare a questo momento. Sono necessari pass, è necessario iscriversi e per questo c'è la possibilità di rivolgersi all'ufficio Pellegrinaggi ogni martedì e giovedì mattina nei locali della Curia Mapiù. In generale è possibile rivolgersi ogni giorno della settimana, quindi dal lunedì al giovedì, eccezione fatta per il venerdì quando gli uffici di Curia sono chiusi proprio in Curia per poter avere informazioni e per iscriversi. Quindi lo ricordiamo per tutti coloro che volessero partecipare la possibilità è quella di rivolgersi alla Curia ogni giorno della settimana dal lunedì al giovedì in orario mattutino per poter iscriversi e poi in futuro quando saranno disponibili ritirare i pass. Ma sentiamo l'intervista al responsabile dell'ufficio Pellegrinaggi della nostra diocesi, Don Fabio Mazzino. Il 27 maggio Papa Francesco farà una visita pastorale a Genova. Come si può fare per partecipare a questo momento di preghiera col Papa? Ma il grande dono della visita del Papa a Genova comunque per tutte le diocesi Liguri è un'occasione d'oro per tutti noi. Per essere bene organizzati abbiamo scelto di convogliare un po' tutte le iscrizioni qui nell'ufficio Pellegrinaggi sia per quanto riguarda gli ammalati, gli anziani, i giovani quindi per una necessaria registrazione e poi per ottenere i pass che sono indispensabili per poter accedere alle aree riservate. In che modo ci si può iscrivere qui? È sufficiente venire nell'ufficio Pellegrinaggi al martedì e al giovedì tra le 10.30 e mezzogiorno. La registrazione prevede il lascio del nome, del cognome, il documento, il luogo e data di nascita. I pass sono naturalmente gratuiti e verranno consegnati in un secondo momento. È già possibile farlo in questo periodo? Sì, anche se guiderò un Pellegrinaggio dopodomani in Terra Santa e al mio rientro ad inizio aprile sarò quindi disponibile per tutti. La partecipazione sarà al momento culminante della visita del Papa ovvero la Santa Messa che sarà celebrata alle 17.30 alla Fiera del Mare. Come raggiungere questa destinazione? Il mezzo più comodo e più opportuno credo che sia il treno. Abbiamo fatto richiesta a Trenitalia di un potenziamento della tratta in modo tale che possiamo avere degli orari favorevoli. Addirittura abbiamo anche fatto domanda di un servizio navetta dalla stazione di Brignole all'area della Fiera del Mare. Sono tutte comunque notizie che riusciremo a dare nel momento in cui saremo a disposizione. Ci sarà poi un secondo momento in occasione della festa di San Francesco perché quest'anno la Liguria è stata scelta come regione d'Italia per fornire l'olio che alimenta la lampada sulla toma di San Francesco. In questa occasione che Pellegrinaggio verrà organizzato? Proprio così sarà ad ottobre in relazione alla festa del Grande Santo nel senso che saremo presenti noi come Diocesi di Chiavari insieme a tutte le Diocesi Liguri e sarò quindi pronto a darvi tutte le notizie necessarie a presto. Concludiamo così noi chiese al nostro appuntamento settimanale dedicato alla vita della Diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie per aver guardato